buongiorno e benvenuti su the river lab il mio laboratorio sul fiume oggi faremo un piccolo video e parleremo di sonde per oscilloscopio in qualcuno diciamo in più di uno mi ha chiesto come tarare la sonda dell'oscilloscopio che anche se diciamo è qualcosa molto facile qualcuno se non l'ha mai fatto potrebbe trovare qualche difficoltà allora partiamo subito col dire che ci sono delle sonde per oscilloscopio che sono 1 1 praticamente quello che entra dentro e quello che esce e delle sonde che sono attenuate 10 1 vale a dire che il valore che andremo a leggere praticamente sarà 10 volte inferiore al valore in ingresso e quello può far comodo diciamo per segnali piuttosto forti oltre ovviamente alla banda passante delle sonde diciamo compagnia cantante che in questo video non ci interessa perché si presume che un oscilloscopio acquistato abbia le sonde adatte alcuni oscilloscopio come alcuni tectronic hanno le sonde volendo 1 1 oppure queste sonde qui che sono 10 1 praticamente ora non so se si vede l'avvicino un attimino un attimo solo allora eccola qua è una sonda da 100 megahertz e 10 10 per c'è scritto che 10 1 praticamente non ha il commutatore mentre ci sono delle sonde tipo questa o tipo quella che andremo poi installare su quello oscilloscopio lì non so se si legge bene comunque c'è questo commutatorino rosso che da una parte c'è scritto uno per e dall'altra c'è scritto 10 per e questa diciamo va tarata ovviamente perché se no la forma d'onda che andremo a vedere non è quella adatta allora una sonda di un oscilloscopio ovviamente deve riportare all'oscilloscopio un segnale quanto più possibile uguale a quello che va diciamo a misurare ora vi faccio vedere un attimino il discorso della delle sonde attenuate la sonda 11 non c'è questo resistore qui da 9 mega ohm praticamente qui è o diretta o mi pare ci sia un resistore comunque di basso valore e non c'è questo condensatore questo compensatore anzi che serve appunto per la taratura della sonda praticamente la sonda diciamo va diretta questo è il l'impedenza di ingresso dell'oscilloscopio questo è il connettore di ingresso dell'oscilloscopio e questa è la sonda vera e propria in una sonda 10 1 o per 10 come è scritto qui praticamente misurando un segnale sinusidale non è che si vede molto su una sinusoide ma misurando un'onda quadra se questo trimmer non è perfettamente tarato si vedrà una sonda si vedrà scusate una forma d'onda che non è più un'onda quadra ora vi faccio vedere un attimino allora questa è una sonda normale ora l'ho impostata non so se qui si vede vediamo un po ecco vedete qui 1 per 10 per ora io l'ho messa su 10 per perché dopo va tarata se io metto un segnale sinusoidale lo vado attaccare un attimino questo questo filo qui questo cavettino qui schermato è corto comunque io l'attacco un segnale sinusoidale come vedete è lo stesso si vede che è una sinusoide comunque non c'è grossa diciamo distorsione mentre se io vado a mettere un segnale ad onda quadra come vedete l'onda non è quadra cioè è quadra quella che esce dal generatore ma qui abbiamo questi picchi qui e in base a quello che poi andrò a variare sul trimmer di compensazione che in questo in questo diciamo in questa sonda è montata direttamente qui sopra mentre per esempio nell'altra sonda che vi avevo fatto vedere questa qui il trimmer è questo è montato sulla sonda stessa questo è il trimmer che poi andrà regolato su questa sonda mentre invece su questa sonda che andremo a montare come sulla anche sulla tectronic il compensatore è questo vedete che se io vado a ruotare se riesco a trovare il buco ovviamente questo questo trimmer otteniamo che la sonda diciamo varia di di forma allora come si fa per tarare la sonda dell'oscilloscopio è veramente banale si prende qui sull'oscilloscopio ci sono questi questi come si possono chiamare questi questi due pippolini non mi è il nome perché servono per la taratura della sonda praticamente e uno aggancia la sonda qua e di qua esce una sola una forma d'onda quadra non so se qui si vede provo avvicinarla mi fa rabbia perché non mi viene il nome di come si possono chiamare questi cosi qui questi questi test point chiamiamo ecco qua da sopra esce un segnale di 0 2 volte sempre un'onda quadra e di sotto esce di due volte noi lo mettiamo a quello di sotto perché ora ci fa più comodo diciamo rinquadriamo l'oscilloscopio che si veda e poi semplicemente banalmente bisognerà tarare questo questo trimmer se lo trovo alziamo un attimino il segnale venirà a tarare questo 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 trimmer qui in maniera che la forma d'onda sia un'onda quadra ecco così diciamo è un'onda quadra aspettate l'abbassa un attimino una cosa importante è che se vi mettete praticamente direttamente sulla lineetta dell'oscilloscopio sui quadrettini lo vedete meglio se io proseguo nella nella corsa la forma d'onda distorge nell'altro verso e non va bene comunque dobbiamo ottenere una forma d'onda quadra praticamente quanto più pari possibile ecco in questa maniera qui la sonda è tarata è fatto il tutto praticamente e ora la possiamo usare sia uno per che ora ovviamente va fuori scala perché ovviamente è troppo vediamo un po' se la recupero ecco così sono a 0 2 volte uno per e se la metto su due volte la metto 10 per riottengo lo stesso segnale però non è una forma d'onda distorta a questo punto ripeto alcune sonde l'hanno direttamente sul connettore vnc altre sonde come questa l'hanno sul corpo della sonda e pertanto io devo tarare quel trimmer lì fino ad ottenere un'onda quadra prendendola dal test point dell'oscilloscopio a quel punto la sonda è perfettamente tarata la possiamo usare senza distorsione senza alterare la forma d'onda che andiamo a misurare è stato un video brevissimo spero che a qualcuno gli faccia comodo visto che mi è stato chiesto e ci vediamo al prossimo video un pochino più lungo un pochino più complicato di questo ciao a tutti